La carenza di personale medico all'interno delle strutture ospedaliere grigentine diventa sempre più un'emergenza, di fronte alla quale le organizzazioni sindacali non restano a guardare. E oggi chiedono l'intervento del direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale, Salvatore Ficarra. In una nota a firma del segretario provinciale di Ampo, Ascoti e Fialz Medici, Rosetta Vaccaro, si sottolinea la gravità della situazione che i sindacati intendono portare all'attenzione del direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale, al quale hanno chiesto la convocazione ufficiale per evidenziare e discutere delle carenze in ambito medico all'interno delle strutture ospedaliere. La mancanza di personale, si sottolinea nella nota, si registrerebbe in particolare all'interno delle aree mediche e chirurgiche, tra cui anestesia, chirurgia, rianimazione e soprattutto il pronto soccorso, che dovrebbe garantire un'assistenza immediata. Tali circostanze non assicurerebbero i livelli minimi di assistenza, rischiando di non garantire un corretto funzionamento dei reparti. Si pone poi l'accento sui turni di lavoro a cui viene sottoposto il personale medico, non rispettando così la legge 161 del 2014, ovvero la regolamentazione dell'orario di lavoro e di riposo del personale sanitario, che non è sempre messa in atto in alcuni reparti, sottoponendo il personale a turni estenuanti e massacranti. La situazione persisterebbe da molti anni, anche a causa della mancanza di una politica organizzativa del lavoro, volta a favorire l'integrazione territorio-ospedale. A ciò i sindacati aggiungono la mancata applicazione del contratto di lavoro nazionale da parte dell'ASPE di Agrigento, che non avrebbe assegnato gli incarichi di lavoro ai medici obbligatori, in base a quanto affermato dalla legge Balduzzi, finalizzando la loro attività professionale, a fornire prestazioni sanitarie, mortificando il ruolo, l'autonomia e la responsabilità dei medici. Una situazione che va risolta al più presto e che i sindacati intendono chiarire, portandola all'attenzione del direttore generale dell'azienda sanitaria. Ma nonostante la situazione continui a persistere all'interno delle strutture ospedaliere, continuano comunque gli appelli dei sindacati e il lavoro dei medici, che pur di assicurare l'assistenza sanitaria e il funzionamento dei reparti, accettano con professionalità di sottoporsi ad un lavoro stancante.